Allora, un piccolo sconfinamento nella rubrica Profondo Nero che, come sappiamo, si focalizza sul cinema statunitense degli anni 40-50 andando a pescare da titoli minori, anche se poi queste direttive sono state trasgredite più volte in vari sensi. E però comunque, insomma, di noir parliamo, ci attacchiamo, ci agganciamo a una tradizione non meno importante di quella statunitense, anzi per certi versi forse addirittura di più, e cioè quella del noir francese, perché mi fa piacere segnalare un'uscita in DVD di un film che non è un capolavoro, anzi è molto lontano dall'esserlo e probabilmente non è così rilevante per la storia del cinema. È un bel film, è un film che, diciamo, nella sua ora e mezza si guarda con piacere, anche se la prima parte risulta sicuramente migliore della seconda e ci permette di fare alcune considerazioni che forse possono interessare chi ha già seguito gli altri video di Profondo Nero. Il film in questione è questo, mostro proprio il DVD, Tre uomini da abbattere, è interpretato da Alain Delon, un Alain Delon ancora nel pieno della fama, il film del 1980, ed è diretto da Jacques Delon, regista francese che ha diretto, come dire, attivo nel cinema di genere, quello che potremmo definire un artigiano del cinema, la sua carriera è molto legata a Delon, hanno fatto insieme tanti film, è uno di quei registi che, per citare Mereghetti a proposito della sua scheda su Funerale a Los Angeles, un film che non ho visto purtroppo, ma rimedierò insomma con Trentignan e Anne Margaret, è un regista che si ferma sempre un secondo prima di diventare autore. Così, suona un po' come una boutade, ma in effetti De Ré è interessato a confezionare dei prodotti che funzionano e che, cosa non scontata per i nostri tempi, e che funzionano soprattutto nel recinto del loro genere, in questo caso il noir. A me piacerebbe anzi che in Italia ci fosse una produzione paragonabile a quella di De Ré, ma è un desiderio che, e anche in altri video così sparsi per il canale o più volte argomentato, è un desiderio che riposa proprio sul più puro sogno. Ma Tre Uomini da battere è in un certo qual modo un film d'autore, e l'autore potremmo dire che è Delon. Alain Delon molto abile a, e sempre anche molto direi attento, a confezionare la sua immagine cinematografica nel momento in cui fuoriesce da quelli che sono alcune riserve autoriali, perché Delon ha lavorato con Visconti, ha lavorato con Zurlini. Tra l'altro, e rimarco anche questo, Delon un uomo di destra che comunque si appoggia a autori, non solo registi, di segno politico opposto. Perché dico questo? Perché nella sua carriera Delon ha espresso il desiderio, e lo ha fatto, di avvicinarsi a scrittori con una visione del mondo e della politica molto lontana dalla sua. Ultimamente, insomma, 10-15 anni fa, mettendo in scena per la televisione Jean-Claude Hizot e interpretando il suo protagonista seriale Fabio Montale, tra l'altro Hizot, se non vorrei dare una sciocchezza, ma si era detto anche scettico sulla pertinenza di Delon rispetto al ruolo, e calcolando che lui è l'autore, si accetta senza riserve a questa cosa. Io da spettatore cinefilo invece penso che Delon fosse un perfetto Fabio Montale, così come si rileva l'interesse di Delon per uno scrittore gigantesco, Jean-Patrick Manchet, forse il più grande scrittore noir francese, ma lo dice uno che purtroppo per limiti suoi non ha potuto leggere chiaramente tutti gli scrittori noir partoriti oltre Alpe, ma la tradizione è assolutamente valida, e Manchet è un grande anche al di là del genere, proprio per virtù di stile. Quando poi Delon passerà alla regia, in qualche modo siglando proprio un passaggio da autorattore a autore in pieno, insomma adatterà con il suo film Per la pelle di un poliziotto uno dei due romanzi di Manchet con un protagonista seriale che si chiama Odingo Chateau mi sembra il titolo originale. Ma venendo a tre uomini da battere, la fonte letteraria che tra l'altro, a ribadire l'interesse di Delon per questo scrittore, Delon scrive anche la sceneggiatura insieme a Jacques Deret e a Christopher Frank, che è un'altra figura tra l'altro meno conosciuta, ma di ciliaste scrittore molto interessante, da Christopher Frank è stato tratto un bel film di Andrei Zulaski, L'importante è amare, ma non divaghiamo. Comunque la fonte letteraria di questo tre uomini da battere è questo piccolo blues. Come spesso succede con Manchet, abbiamo una folliazione minima, un centinaio di pagine, che però preludono a un noir secchissimo, spietato, divertente anche, giocato sui registri dell'ironia e con uno stile di scrittura scheletrico. Questo era Manchet, detto in soldoni. Ora, qual è la differenza sostanziale col libro? Fermo restando che le differenze tra film e libro per me è sempre un argomento ozioso. Comunque, io penso che la personalità di Delon in qualche modo abbia fatto del bene, ma abbia fatto anche del male all'adattamento di questo libro. Del bene perché, insomma, Delon è veramente un animale da cinema, una faccia bellissima e la sua fisionomia è un tutt'uno con il polar francese, con il noir. È un'icona, è un'icona che quando è nelle mani giuste, e naturalmente queste mani giuste non possono che essere quelle di Jean-Pierre Melville, pensate a un film come Le Samurai, da noi sciaguratamente intitolato Franco Stello, faccia d'angelo, insomma, a me verrebbe da dire che Delon in qualche modo è il noir francese, è il noir francese, diciamo, dalla seconda metà degli anni Sessanta in poi, quella generazione lì, e poi il noir vero, cioè quello senza, diciamo così, sovrastrutture autoriali che vogliono usare il genere per dire qualcos'altro. Poi Melville, come tutti i grandi cineasti, diceva anche qualcos'altro, ma la sua preoccupazione con un film come Le Samurai era licenziare il miglior noir possibile, ma il miglior noir possibile secondo Melville, quindi siamo in paradiso. Tre uomini da battere è invece un film di genere che sicuramente si bea dell'icona Delon, ma allo stesso tempo è anche un limite. Perché? Perché Piccolo Blues è un romanzo che racconta la vicenda di questo impiegatuccio, questo Monsieur Travé, di nome Gervaux. Tra l'altro tutti i personaggi di Manchetta hanno nomi di uccelli. Gervaux, credo che sia tradotto, sia il giri falco, come un rapace, insomma, non so bene, però c'è questa caratteristica dei suoi libri. Dicevamo, Gervaux è un uomo come tanti, ha una moglie, dei figli, ed è un impiegato e viene coinvolto in un intrigno internazionale che metterà a rischio la sua vita, ma soprattutto gli darà modo di scoprire la propria ferocia e la sua capacità di sopravvivere in un momento, insomma, in cui tutti sembrano volere la sua pelle. Quindi è un po' una descrizione di una conoscenza di se stesso nel profondo dei propri istinti primari che permettono a un uomo qualunque, un uomo civilizzato, di diventare un bruto e di uccidere. In questo senso, a me piacerebbe anche mi piacerebbe leggere il primo capitolo di Piccolo Bruce perché è bellissimo. Allungo il video ma lo voglio leggere. A volte succedeva quello che succede adesso. Georges Gervaux sta guidando sulla circonvalazione esterna e entrato dalla porta di Ivry sono le due e mezzo o forse le tre e un quarto del mattino. Un tratto della circonvalazione interna è chiuso per la pulizia della strada e sul resto del tragitto la circolazione è inesistente. Sulla circonvalazione esterna ci sono due, tre, al massimo quattro veicoli per chilometro. Alcuni sono camion, spesso molto lenti. Gli altri veicoli sono auto private che viaggiano tutte a gran velocità ben oltre i limiti consentiti. Tanti autisti sono ubriachi come Georges Gervaux. Ha bevuto cinque bicchieri di Four Roses e circa tre ore fa ha mandato giù anche due compresse di un barbiturico potente. Il miscuglio non gli ha fatto venire sonno ma un'eufaria inquieta che minaccia in ogni momento di trasformarsi in collera o anche in una specie di malinconia vagamente cecoviana e comunque amara. Vale a dire un sentimento non molto valoroso né interessante. Georges Gervaux viaggia a 145 km orari. Georges Gervaux è un uomo che ha meno di 40 anni. La sua auto è una Mercedes grigio acciaio. La pelle dei sedili è color mogano così come l'insieme dei rivestimenti interni della macchina. L'interno di Georges Gervaux è ombroso e confuso. Vi si distinguono approssimativamente idee di sinistra. Sul cruscotto dell'auto sopra i quadranti c'è una targhetta metallica opaca con su inciso il nome di Georges il suo indirizzo il gruppo sanguigno è un'immagine merdosa di San Cristoforo. Tramite due altoparlanti uno sotto il cruscotto uno dietro al sedile posteriore un mangiacassette espande a basso volume del jazz stile West Coast Jerry Mulligan Jimmy Jouffre Bud Shank Chico Hamilton so per esempio che fra un attimo partirà Tracking di Ru Bloom e Ted Koehler eseguita dal quintetto di Brob Bruckmeier il motivo per il quale Georges corre così sulla circonvallazione con i riflessi rallentati ascoltando quella musica va soprattutto cercato nel ruolo di Georges all'interno dei rapporti di produzione il fatto che Georges ha ucciso almeno due persone nel corso dell'anno non va tenuto in conto quello che succede adesso succedeva a volte anche prima parte così il romanzo praticamente con tutto quello che doveva succedere già successo e poi come nella migliore tradizione del noir ecco che abbiamo un flashback che ci racconta tutto quindi Gervaux è un uomo non nato per la violenza ma che lo diventa in modo imprevedibile il personaggio di Delon non poteva avere caratteristiche da travè non poteva avere caratteristiche così poco fascinose e quindi diventa un giocatore di poker che nasconde nel suo passato delle skills si direbbe adesso delle capacità che gli permettono di dialogare alla pari con dei criminali che vogliono ucciderlo ha amici nei servizi segreti la sceneggiatura quindi ci descrive un personaggio molto diverso da quello che leggiamo sulla pagina e francamente meno interessante proprio perché Delon deve essere per forza affascinante ma Delon è anche diciamo così un autore permettetemi di usare questa parola un autore intelligente più intelligente per esempio di Tom Cruise che comunque quando non ha così dietro di sé un grande regista è abbandonato a se stesso e si lascia filmare da degli shooter così scelti con più o meno intelligenza tutto sommato riafferma il suo personaggio così di supereroe in sedicesimo ora adesso va di moda a parlare bene di Top Gun Maverick io non l'ho visto sospetto sia una grossa cazzata come era il primo di Tony Scott pur essendo poi nel complesso Tony Scott anche un regista non spregevole diciamo che a certe rodomontate Delon ha saputo sfuggire forse perché tutto sommato gli è sempre piaciuta l'estetica del samurai e quindi il suo personaggio a un certo punto deve fare seppuku è quello che conviene è quello che che avviene anche in tre uomini da abbattere che ha un finale che recupera un minimo della betise manchettiana e arriva abbastanza scollato ma con una scollatura che tutto sommato è piacevole dicevamo la prima parte del film è la migliore quella in cui Gervaux si accorge di aver come diciamo dalle nostre parti pisciato fuori dal vaso e aver fatto qualcosa che lo mette in pericolo c'è una sequenza molto bella che è presente anche nel libro in cui Gervaux è al mare con la sua donna che poi è la nostra Dalila di Lazzaro interpreta una ragazza appunto italiana in Francia è al mare diceva va a far il bagno lasciando lei che lo aspetta sulla spiaggia quando è in acqua viene aggredito dai due killer che tentano di fargli la pelle per tutto il corso del film e in mezzo alla gente tentano di affogarlo e quello che è a tutti gli effetti un'aggressione viene scambiata dalle altre persone come un gioco e lui alla fine riesce in qualche modo a liberarsi scappa torna sulla spiaggia ed è quasi incredulo di quello che gli è successo e questa scena è veramente molto molto bella The Ray la racconta molto bene sembrerebbe diciamo sciocco insomma una persona viene aggredita in mezzo alla spiaggia nessuno dice niente e poi lui stesso non fa nulla però in realtà è un po' come se questo personaggio avesse vissuto un sogno tanto è fuori dalla sua portata l'idea di essere aggredito davanti a tutti e questo tra l'altro se vogliamo è anche un po' una citazione icicocchiana pensiamo all'aggressione tramite l'aereo a Cary Grant in intrigo internazionale che avveniva in plein air senza in una pianura sconfinata quindi senza la possibilità di utilizzare stilemi e temi della suspense non ci sono angoli in cui nascondersi c'è solo una pianura assolata e un aereo che tenta di sparare su un uomo e qui è un po' la stessa cosa e la stessa cosa poi succederà anche in Tenebre di Dario Argento nell'omicidio anche quello in una piazza assolata di John Saxon ma qui dicevamo abbiamo questa scena molto bella che funziona molto con un esito emotivo diverso perché se il gerfot delle pagine di Manchette può essere giustamente terrorizzato da una scena del genere il gerfot di Delon è sì impaurito ma ha come dicevamo prima le le capacità di trarsi d'impaccio in qualche modo il fatto che Delon si trovi così su agio con le armi da fuoco che riesca a per gran parte del film a venire fuori da queste cose è un'idea di sceneggiatura molto melviliana cioè in fondo non ci viene detto niente del passato di questo personaggio dobbiamo ricostruirlo noi è tutto affidato allo spettatore dobbiamo crederci o non crederci ce lo costruiamo noi il passato del gerfot interpretato da Delon per tutto il film Dalila Di Lazzaro dice che è un uomo misterioso ha un amico appunto nei servizi segreti che gli dà un po' un'imbeccata per come muoversi quindi sicuramente viene scambiato da dei professionisti per gli uomini che lo cercano quindi sicuramente è un personaggio che chiede allo spettatore di chiudere il cerchio di completare la sua autobiografia e questo in un diciamo in un panorama narrativo in senso lato in cui la necessità di spiegare è fortissima perché la gente vuole capire secondo me non è interpretabile come sciatteria ma come una richiesta di sforzo e di intelligenza maggiore allo spettatore ora ho parlato 17 minuti per un film che è un piccolo film non è niente di che voglio dire ho dedicato credo la metà del tempo a capolavori assoluti come Viaggio a Tokyo o che ne so la sanguinaria di Joseph Hitch Lewis pescando titoli a caso e invece parlo molto di Tre Uomini da Battere e di Jacques Deray ma secondo me proprio per la sua medietà proprio per anche i suoi difetti ma anche allo stesso tempo per la competenza di Jacques Deray dei suoi della sua troupe c'è anche qui una sequenza di inseguimento bellissima io tiro sempre fuori le sequenze di inseguimento perché sono rimasto così un po' oltraggiato da quello da quella puttanata che apre il diabolic dei manetti che sono capace di girare anch'io e non è un iperbole proprio così quindi voglio dire il fatto che un tempo ci fosse un cinema europeo capace di queste performance tecniche veramente mi allo stesso tempo mi allieta ma poi subito dopo mi era trista perché oggi non è più così cioè non è più così in Italia perché in Francia continuano in Francia la tradizione del poliziesco del noir è vivissima c'è un regista come Olivier Marchal che licenzia dei film che sono sempre tra il bello l'interessante il bellissimo quindi adesso deve uscire novembre che è ispirato ai fatti del Bataclan e viene raccontato non è un giudizio di valore perché il film devo ancora vederlo ma è proprio la come dire è la performance produttiva in questo caso che vale che mi fa parlare ecco tutte cose che noi in Italia ce le sogniamo ma perché vogliamo sognarcele con l'eccezione e trovate nella playlist in sala il mio commento con l'eccezione di quel gioiello che è l'ultima notte di amore bene non ho altro da dire salvo così segnalare questo piccolo polar e le sue connessioni e separazioni col piccolo grande libro di Manchette tanto vi dovevo vi auguro una buona giornata grazie a tutti